Pinetta di Laives, giornata di festa per la comunità del centro abitato tra Bolzano e Laives. Una semplice ma importante cerimonia alla presenza dei vertici provinciali e comunali per l'inaugurazione e la riapertura dell'ufficio postale. Le porte si erano chiuse nell'autunno del 2015 non senza i malumori dei residenti. L'ufficio postale è tornato in attività grazie alle nuove competenze nate dall'accordo tra provincia e poste italiane, siglato nell'aprile dell'anno scorso a Roma. I circa 2.500 abitanti di Pinetta di Laives possono da subito fruire dei servizi dell'ufficio postale il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 ma anche il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Direi che è una giornata molto positiva non soltanto per Pinetta di Laives ma per tutta la provincia perché questa è la dimostrazione che l'accordo siglato con poste italiane dà i suoi frutti, i risultati arrivano, la riapertura di questo ufficio poste e poi la garanzia che non saranno più chiusi ulteriori uffici poste, avremo 130 su tutto il territorio, l'assunzione di 25 persone per il servizio recapito a cui seguiranno altri, lo spostamento del centro svistamento da Verona a Bolzano che è già in essere, inizierà l'attività in primavera e così riusciremo a migliorare giorno per giorno il servizio per i cittadini e garantire anche il servizio per il futuro. Tra gli obiettivi importanti ottenuti grazie ai nuovi accordi in evidenza quello di aver garantito la consegna quotidiana della posta almeno dei prodotti editoriali. Nel resto d'Italia la consegna avviene invece a giorni al terra. Garantire i servizi e la qualità dei servizi è importante per vivere bene nella nostra terra. Per questo ci siamo impegnati per l'accordo con poste e anche per mantenere aperti gli uffici postali sul territorio, in particolare in questo caso per Pineta ma in generale su tutto il territorio provinciale a favore dei nostri concittadini. Un ulteriore miglioramento del servizio avverrà grazie all'aumento del personale e alla riapertura del centro di distribuzione di Bolzano chiuso addirittura nel 1992. Nel frattempo le poste assumeranno 25 nuovi postini.